Anche il Consiglio regionale del Piemonte scende in campo per la partita del cuore, che quest'anno torna a Torino, allo Juventus Stadium, dove la nazionale italiana cantanti sfiderà i campioni per la ricerca. Obiettivo dell'evento, la raccolta fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e la Fondazione Teleton. E proprio sul prato dello Juventus Stadium si esibiranno i giovani piemontesi vincitori del concorso Un Cuore Rap, che dovranno scrivere una canzone con alcune parole chiave, tra cui solidarietà, ricerca, sport, salute, stili di vita e benessere. Il concorso scade il 26 aprile. Informazioni sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, sezione Stati Generali dello Sport. Ciao, sono Tommaso dei Perturbazione, nella mia Torino. Collaboro alla giuria di questo concorso che si chiama Un Cuore Rap. Farò parte della giuria che giudicherà i vostri lavori che potete mandare fino al 26 aprile delle canzoni. Di base si tratta di scrivere un pezzo, lo dice la parola stessa Un Cuore Rap. Le parole da utilizzare per questo stesso, è un lavoro creativo e credeteci, io lavoro con i testi e quindi so di cosa sto parlando. Dovete utilizzare alcune parole che hanno a che fare proprio con la partita del cuore, con il concetto di beneficenza e di solidarietà. Declinate la vostro modo, andate a cercare il regolamento e come partecipare sul sito del Consiglio regionale del Piemonte. Ricordo ancora una volta Un Cuore Rap, 26 aprile è la scadenza. Ci vediamo il 30 maggio alla partita del cuore allo Juventus Stadium. Ciao.